Un confronto è la prova delle varie implementazioni della penna a sfera BIC Crystal. Quali sono le caratteristiche e le differenze tra i vari modelli presenti sul mercato? Quale è più adatta alle mie personali esigenze? E a queste e ad altre domande cercheremo di dare una risposta in questo video. Buon proseguimento! Si fa presto a dire penna BIC. Tutti le conoscono, molte persone ci sono cresciute e ancora le usano con soddisfazione. C'è addirittura chi ci fa arte impiegandole per quadri e disegni di buona qualità. Sono disponibili in numerose versioni, tutte si assomigliano esteticamente, sostanzialmente condividono la stessa forma con fusto esagonale, ma vari modelli possono offrire esperienze di scrittura piuttosto diverse, soprattutto sono cambiate nel corso del tempo per quanto riguarda il meccanismo della sfera e le composizioni degli inchiostri. Non sono insomma le stesse penne BIC che magari avete usato decenni fa. Nel seguito descrivo i principali modelli BIC Crystal, soffermandomi soprattutto su caratteristiche e differenze. Beh, non potevo non partire con le classiche BIC Crystal original. L'originale rimasta pressoché invariata nel corso del tempo, almeno nell'estetica, nella sua prima edizione dei primi anni cinquanta del novecento, l'oggetto che ha portato la rivoluzione della penna a sfera nel panorama della scrittura, esposta nella collezione permanente del MoMA Museum of Modern Art di New York. Punta media, sfera da un millimetro di diametro, la larghezza del tratto è di 0,32 millimetri, disponibile nei colori nero, rosso, verde e blu. Semplice, affidabile e durevole. La lunghezza media di scrittura del suo refill è di 3.000 metri, ovvero 3 chilometri. Il test è stato effettuato da un organismo indipendente SGS per l'inchiostro blu e nero. Le misure, parliamo perché nessuno poi parla mai delle misure delle penne BIC, comunque il peso è di 4,5 grammi senza cappuccio, 5,5 grammi con cappuccio, la lunghezza è 14,8 centimetri così com'è chiusa, 14,4 se togliamo il cappuccio e 16,5 centimetri se invece il cappuccio viene calzato in questo modo. Così abbiamo effettivamente una lunghezza superiore. Ha un tappo con foro antisoffogamento, importantissimo è stato introdotto negli ultimi decenni. Il fusto è trasparente e permette di controllare il livello di inchiostro residuo e c'è un buchino per compensare la pressione interna ed esterna. Questo dovrebbe evitare che i sbalzi di pressione possano creare una pressione interna maggiore e far fuoriuscire l'inchiostro e da una parte qui del refill ma soprattutto dalla punta. Quindi questo buchino è fondamentale per il buon funzionamento della penna. Poi abbiamo delle varianti che sono ad esempio la Big Crystal Renew. Questa è la Big Crystal Renew, ne ho parlato dettagliatamente in un altro video di questo stesso canale. Questa è la penna con fusto in metallo e i suoi refill che poi ovviamente sono praticamente uguali ai refill. Sono intercambiabili con tutte le penne a sfera Big. Una penna sicuramente interessante. Il cappuccio è in plastica ma il fusto è in metallo. Poi ci sono le versioni Crystal Shine con colorazioni oro e inchiostro blu oppure in argento con inchiostro nero. La Crystal Grip con impugnatura gommata, la Crystal Collection con foglietto colorato all'interno. Questa è una Crystal Collection. Vedete che ha semplicemente un foglietto di carta colorato all'interno che però ne limita il controllo dell'inchiostro. Ovviamente si può rimuovere e trasformare in una normalissima penna Big Crystal classica. Poi abbiamo la Crystal Click trasparente anch'essa con pulsante di scatto per la punta e la Crystal Stilus che nella parte posteriore, qui sul tappino posteriore, presenta un gommino da usare sugli schermi. Ma andiamo a provarla. Questa è una Big Crystal Blue. Quindi andiamo a scrivere qui, Big Crystal Blue con sfera da 1 mm e questo è il suo tratto. Poi vi farò magari vedere il confronto in dettaglio più avanti nel corso di questo video. Molte delle penne di cui parlerò sono facilmente reperibili nelle cartoliberie ma anche nei supermercati con reparto cancelleria e ovviamente anche online. Qui sotto nel box informazioni del video vi indico alcuni link per il loro acquisto. Quindi eventualmente andate ad aprirlo e troverete il modo insomma di acquistare online magari anche a prezzi convenienti. Ed ora la Big Crystal Soft. Andiamo ad una penna che è semplicemente interessante, valida, io la reputo straordinaria veramente. Questa è anch'essa definita con punta media ma la sfera ha un diametro di 1.2 mm. Sembra una normalissima penna Bic ma ha una sfera leggermente più grande. Invece di un millimetro 1.2 mm e la larghezza del tratto è di 0.35 mm contro 0.32 della Big Crystal classica ed è disponibile nei colori nero, blu, rosso e verde. Andiamo a scriverci, questa deve partire, è stata ferma per un po' di tempo. Big Crystal Soft. Questo è 1.2 mm e questo è il suo tratto. Già si può vedere che effettivamente è un pochino più grande rispetto alle altre, rispetto a quelle classiche. L'inchiostro ha un sistema definito Easy Glide e rispetto all'inchiostro tradizionale delle penna sfera Bic migliora la scorrevolezza di scrittura del 35% e vi garantisco che si avverte questo 35%. Se ancora non l'avete fatto vi consiglio di provarla. Qui è importante una precisazione. Solitamente la scorrevolezza di una penna sfera ma vale anche per le penne gel, queste sono con inchiostro viscosa basoleosa ma ci sono anche le penne gel, ma anche le penne stilografiche. A parità di tecnologia, precisione nella realizzazione e inchiostro impiegato, la scorrevolezza tende ad aumentare al crescere della dimensione della sfera. Sì, se la sfera è più grande, il tratto è più largo, c'è più inchiostro che fa da lubrificante nella frizione tra punta e carta. Ecco perché questa scorre davvero davvero bene. È straordinaria come pena. Io, come ho già detto, vi consiglio assolutamente di provarla. Chiunque l'ha provata perché magari gli ho prestato una mia penna Bic è rimasto dicendo ma io non ricordavo che le penne Bic scrivesse in questo modo. È perché dico effettivamente sono cambiate. Questi sono i modelli più avanzati in termini di scorrevolezza. Quindi la soft di base sarebbe già più scorrevole della original. Ricordo che la sfera è 1.2 mm contro 1 mm della original, però ha il vantaggio di questo inchiostro specificatamente sviluppato per renderla più scorrevole. Andiamo ancora avanti con la Crystal Up e qui andiamo un po' a a prendere questa confezione che mi è arrivata con tante penne a sfera Bic. Ne ho parlato specificatamente in un altro video di questo stesso canale. Eventualmente vi metto qui sopra il collegamento per andarlo a guardare se siete interessati. Sono arrivate diverse penne ma poi ne ho aggiunte altre anche io per completare un po' la collezione in questa simpatica scatola in metallo. Queste sono le Bic Crystal Up, come ho detto, fusto bianco e colorazione della punta e clip che richiama. Questa è la parte della clip e qui abbiamo anche il tappino posteriore ma anche la punta che va a richiamare il colore dell'inchiostro. Si perde però con questo fusto bianco non trasparente la possibilità di vedere il livello di inchiostro. Qui vediamo in dettaglio Crystal Up. La punta è da 1.2 mm e il tratto è da 0.35 mm. Andiamo un po' a provarla. Questa Bic Crystal Up. 1.2 mm. Andiamo ancora avanti e proviamo magari invece dei colori tradizionali, neore e blu, proviamo questa turchese. Qui Bic Crystal Up 1.2 mm. Praticamente è come una Crystal Soft per quanto riguarda la larghezza della della sfera, però nel catalogo non viene indicata quella dicitura sull'inchiostro maggiormente scorrevole. Effettivamente è una penna che scorre meglio di una Bic classica, di una Bic original da un millimetro perché comunque ha una sfera più grande, però scorre bene ma non a livello del soft. L'uso di un inchiostro diverso permette però di offrire una più ampia varietà di colori. Infatti avete già qua visto il turchese e il rosa e effettivamente oltre ai classici nero e blu anche viola, verde, azzurro e rosa. Proseguiamo ancora con la Bic Crystal Large. Il fosto è fumet traslucido, il cappuccio e tappino dello stesso colore dell'inchiostro. Sono disponibili solo in nero e in blu. La punta è da 1.6 mm e il ha una larghezza di 0,42 mm. Vediamo un pochino adesso di provarla. Questa è una... Ah ecco, effettivamente avendo la punta abbastanza larga c'è il rischio che l'inchiostro possa andare a seccarsi. Quindi la Bic le dota di un tappino in gomma per preservarne l'inchiostro, appunto per evitare che si vada ad asciugare nel corso del tempo, perché magari possono passare mesi dal momento in cui vengono prodotte al momento in cui vengono realmente utilizzate dalla persona che le acquista. Quindi adesso vediamo un po' di... il primo utilizzo di farlo scorrere. Questa è una Bic Crystal Large ed è da 1.6 mm. Già, come vedete, effettivamente ha un tratto più largo. Io spero che si possa vedere nel video. Poi proseguiamo con le Bic Crystal Multicolor. Sostanzialmente sono molto simili alle Crystal Large. Abbiamo una punta da 1.6 mm e il tratto da 0.42 mm, come le Crystal Large, ma evidentemente c'è una formulazione di inchiostro che ne permette di avere un gran numero di colori. Bic dichiara essere la più ampia proposta tra le penne a sfera, ben 15 colori, dei quali due fluo fluorescenti, come gli evidenziatori. E nello specifico si tratta del giallo e l'arancione. Ma andiamo un pochino a provarle anche. Questo è proprio il giallo. Proviamo a scrivere qui qualche chiricoro, qualche disegnino. Effettivamente è proprio il colore di un evidenziatore. Non so se in video si vede, ma è luminoso, riflette la luce ed permette effettivamente di avere una buona luminosità. Proviamo velocemente anche le altre. Magari questo è un verde scuro. molto bello, molto molto visibile. Andiamo ancora avanti e proviamo questa viola, magari. Sì. Ecco, effettivamente è stata ferma per parecchio tempo e non scrive bene subito, però poi riparte bene, senza problemi. Bello, un bel colore. Proviamo anche a scrivere, a fare una campitura, insomma, quindi a vedere un po' come si può colorare una parte. Devo dire che è una bella tonalità di viola. Mi piace. L'azzurro l'abbiamo visto anche nell'app. Più o meno dovrebbe essere lo stesso. Questo è l'azzurro. Molto bello anche in questo caso. E poi abbiamo, visto che ci siamo, le vediamo tutte quante. Questa è la rossa. Anche questa è stata ferma per... Forse questa non l'ho proprio mai utilizzata effettivamente, quindi potrebbe avere addirittura mesi. Molto 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 bello. Un rosso chiaro, non è particolarmente scuro, non è incisivo, però ben visibile. Decisamente carico e saturo. E infine questo qua, che è un verde lime, quindi un verde abbastanza chiaro. Sì, devo dire che è decisamente una buona scelta di colori, ma ce ne sono molti altri. Come ho detto, sono ben 15 colori. A parte per gli altri colori, le versioni con inchiostro nero e blu sono praticamente indistinguibili dalle Crystal Large. Quindi le Crystal Large sono come le Crystal Multicolor. E la stessa cosa vale per le Crystal Fun, che sono identiche nelle caratteristiche, ma disponibili solo in quattro colori pastello. Viola, turchese, rosa e verde lime. Poi arriviamo alle Big Crystal Original Fine. E sono queste qui. Hanno il fusto arancione per distinguere dalle altre. In passato mi ricordo che esistevano con il fusto arancione, ma non traslucido, non trasparente, quindi non permettevano di vedere l'inchiostro al suo interno. Sono disponibili con inchiostro nero, blu e rosso, quindi proprio i colori classici. La punta è da 0.8 mm e hanno una larghezza di tratto di 0.30 mm. Quindi questa è 0.30, le Crystal Standard sono 0.32, poi abbiamo le Soft che invece hanno un tratto di 0.35, questa è una Soft e questa qui che invece è una larga, ha un tratto di 0.42. Quindi insomma, sembrerebbero differenze davvero di decimi di millimetro, ma vi garantisco che si avvertono bene. Andiamo adesso a provarla. Questa è la punta, abbiamo detto, da 0.8 mm, tratto 0.30. Secondo un test SGS, questa è una cosa importante, ha una lunghezza di scrittura di 3.5 km. Questo è relativo sempre all'inchiostro blu e nero, quindi scrivono più rispetto alle Bic Crystal Original. Effettivamente il refill è lo stesso, la quantità di inchiostro quindi è la stessa, ma avendo una punta più fine, più sottile, permettono di scrivere per una lunghezza ben superiore. Questa è una Bic, andiamo come al solito a farla riprendere perché sarà ferma per un po'. E qui si vede che è decisamente sottile. Bic Crystal Fine è da 0.8 mm. Certo, poi messa vicino alla large la differenza appare effettivamente enorme. Questo è il tratto, un tratto davvero pulito, molto molto bello e poi come ho detto dura effettivamente tantissimo. E arriviamo a quella con il tratto più sottile, è la Bic Crystal Ultra Fine. Spesso sulla confezione è riportata anche la dicitura Exact. Sono le Bic con la punta e il tratto più sottile, disponibili nei colori blu, nero e rosso, quindi anche qui i colori classici. C'è una bella differenza nella punta perché in questo caso è una punta ad ago. Adesso andiamo a metterla a confronto con un'altra Bic. Qui vedete la punta come è fatta è più grande. Qui invece per avere una maggiore precisione c'è questa punta ad ago davvero sottile. Il diametro della sfera è di 0.7 mm la larghezza del tratto 0.28 mm. Andiamo a provarla. Bic Crystal questa è Ultra Fine tra parentesi scrivo Exact ed è da 0.7 mm la sfera. E devo dire che è anche una buonissima scorrevolezza cosa che non mi sarei aspettato perché per il discorso che ho fatto prima scendendo di dimensioni nella larghezza nel diametro della sfera effettivamente dovrebbe avere una scorrevolezza inferiore. Eppure forse per la sua particolare formulazione dell'inchiostro devo dire che questa effettivamente scrive molto molto bene ed è dichiarata è una penna straordinaria. Poi anche questa non so se permette no questa effettivamente si nota poco la variazione di tratto. Questa è una cosa che magari vi posso far notare con le punte più larghe. Se io vado a scrivere premendo più e meno come vedete si realizzano delle variazioni di tratto che sono tipiche magari delle penne stilografiche. Qui non accadono miracoli però comunque si riesce a realizzare delle righe leggere. Questa è una Crystal Soft oppure delle righe decisamente più cariche semplicemente premendo di più. Questa è una cosa interessantissima per chi vuole ottenere degli effetti particolari durante i disegni o la scrittura. Una nota finale tutte le Crystal ad eccezione dei modelli a scatto hanno il refill intercambiabile e adesso facciamo vedere questa come abbiamo detto è una soft questa qui è una questa è verde va bene ok con 1.6 mm poi prendiamone anche una classica ecco qui tutti i refill sono sostanzialmente intercambiabili quindi possiamo mettere questo della classica su quella grande da 1.6 mm in pratica il fusto è utilizzabile con qualunque refill in base alle proprie esigenze. I refill si vendono anche separatamente magari non sono così semplici da trovare ma ci sono grazie a questi si ha un vantaggio per l'ambiente perché di fatto si possono riutilizzare fusto e cappuccio più volte ma economicamente spesso non sono convenienti comunque se siete interessati qui sotto vi mette il link per poterli acquistare online. Poi Bic ha nel suo catalogo molte altre penne molti colori con inchiostro gel la linea atlantis le ecolutions ed altre ma qui in questo video volevo descrivere in particolare le Crystal. Bene siamo arrivati alla conclusione e spero di aver fatto una cosa gradita con questo video e che possa soprattutto risultare utile fare chiarezza magari tra le varie versioni delle Bic Crystal. Vi ricordo che se volete potete mettere un mi piace ed eventualmente iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle prossime uscite. A questo punto vi saluto e vi do un arrivederci ciao a tutti a presto